A tutti voi buona giornata, ben trovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli in apertura un incidente stradale con esito mortale, si è verificato lungo la via principale di Corno di Rosazzo circa le 11.30 per cause che sono al vaglio delle forze dell'ordine e da quanto si è potuto apprendere sino ad ora il conducente di una vettura ha investito una persona che stava attraversando la strada. La centrale Sores di Palmanova ha inviato un'ambulanza sul posto assieme anche all'elicottero sanitario che è decollato dalla base di Campo Formido. Sul posto è stata tentata una lunga rianimazione però purtroppo per la persona coinvolta in questo incidente non c'è stato nulla da fare, è morta. Voltiamo decisamente pagina per raccontarvi le grandi emozioni che si sono vissute ieri sera a Buia per la festa dedicata a Jonathan Milan al rientro da Tokyo dove ha conquistato la storica medaglia d'oro di inseguimento su pista nel ciclismo a squadre, una festa trasmessa in diretta ieri sera da Telefriuli. Il neocampione olimpico è arrivato nella piazza del paese a bordo di una limousine scortato dalla motostaffetta e seguito anche dai genitori. Green Pass in mano, buiesi e tifosi arrivati da tutta la regione sono entrati nell'area riservata di fronte ad un palco con i cerchi olimpici, tutto intorno un tripudio di colori e di cori che ripetevano oro Milan. Il Friuli si riafferma terra di grandi campioni votata allo sport e al sacrificio, qui a Buia in particolare festeggiamo una terra di ciclisti dove è cresciuto anche il campione Alessandro De Marchi. Abbiamo molto per cui festeggiare ed essere orgogliosi dello sport regionale. Queste le parole dell'assessore alle finanze Barbara Zilli che ha portato il saluto dell'amministrazione regionale. In piazza anche il videomessaggio del governatore Massimiliano Fedriga. Jonathan Milan ha portato il nome della regione ai vertici internazionali dello sport. Come regione ricorderemo quest'impresa nella storia del Friuli Venezia Giulia. I valori espressi dallo sport, ha detto, non si incarnano solo in campioni come Jonathan, ma nei ragazzi e nelle ragazze che quotidianamente si cimentano in queste attività che fanno crescere le persone. Magari non diventeranno campioni, ma impareranno che cosa significa il sacrificio. È una medaglia d'oro straordinaria. Anche l'assessore regionale allo sport, Tiziana Gibelli, pur non essendo presente a Buia, ha fatto giungere il suo saluto personale alla comunità in festa. Jonathan Milan porta a casa una medaglia d'oro che va ad aggiungersi ai bronzi di Mara Navarria e di Mirco Zanni e tutto ciò è per noi ragione di gioia e di orgoglio. La festa si è conclusa con i fuochi pirotecnici. C'è anche Trieste tra le 15 città da bollino rosso per il picco dell'ondata di calore previsto per venerdì. È il massimo livello di rischio salute per il caldo indicato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, un rischio che riguarda tutta la popolazione e non solo le fasce più fragili. I 15 centri urbani sono oltre a Trieste, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Solo ieri per il capoluogo Giuliano era stato indicato il bollino arancione con il termometro che ha superato i 36 gradi con una temperatura percepita di 40. Un utile netto di 8,3 milioni di euro, un boom di erogazioni di mutui casa, 500 in soli sei mesi e un'impennata nella crescita dei conti correnti, 900, sono stati alcuni dei più evidenti risultati del primo semestre 2021 di Credi Friuli. Al 30 giugno 2021 le masse operative hanno raggiunto i 2,67 miliardi di euro, aumentate di oltre 300 milioni di euro in un anno, grazie al contributo della raccolta globale pari a 1,67 miliardi, ma anche degli impieghi che segnano quota 998 milioni più 16% su giugno 2020. Il patrimonio della banca ha superato i 160 milioni. Nuovo no alla centrale termoelettrica a gas di Gorizia che sarà completata entro giugno 2022 nel quartiere di Sant'Andrea. I comitati e associazioni hanno manifestato contro l'impianto e per chiedere alle istituzioni più attenzione per quest'area della città. Solo pochi giorni fa si era svolto un flash mob nei pressi del cantiere da poco attivato. Avevano manifestato la propria contrarietà all'opera fin da subito nel gennaio del 2018. Da allora il progetto della nuova centrale termoelettrica a gas di Sant'Andrea, quartiere a sud di Gorizia, è stato approvato e il cantiere è partito pochi giorni fa. Per questo comitati e associazioni si sono dati appuntamento nell'area industriale per manifestare ancora una volta contro il progetto che verrà ultimato entro il giugno 2022, un'opera che raggiungerà la potenza di 72 megawatt elettrici. Il sit-in, che si è concluso con la passeggiata a fine cancelli del cantiere, è stato organizzato dal comitato EcoStandres e delle altre realtà cittadine contrarie all'opera. Le nostre richieste sono chiaramente non per bloccare quella centrale gas, perché quella abbiamo tentato di bloccarla già durante la fase di progettazione. Quindi noi vogliamo che l'amministrazione comunale prenda atto delle nostre petizioni che abbiamo presentato, quasi 1600 firme. Le nostre non sono semplici opposizioni, ma sono anche proposte per un utilizzo più sostenibile. Una zona industriale è quella di Gorizia che si trova a ridosso dell'abitato, delle case. Noi continueremo a stare qua, perché questa non è una periferia degradata, ma è una zona bellissima di Gorizia. Un aggiornamento sulla notizia di apertura. È una donna del posto, la vittima dell'incidente stradale, accaduto questa mattina attorno alle 11.30 a Corno di Rosazzo. Come vi abbiamo detto, una persona è stata investita mentre stava attraversando la strada. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi prestati. Sul posto è arrivata un'ambulanza, ma anche l'elicottero sanitario. Sta operando il personale dei carabinieri della Compagnia di Palmanova. È dedicato alla vita di San Rocco, l'evento teatrale promosso dal comune di Udine per lunedì 16 agosto. L'appuntamento in piazza Venerio vedrà protagonisti Angelo Floramo, Massimo Somaglino e Michele Pucci. Dolce sopra ogni miele e dolcezza, la vita di San Rocco. È il titolo dell'evento Lucappa che vede al centro di uno speciale spettacolo teatrale un manoscritto udinese del Settecento. Il testo è un testo in un italiano volgare, in veneziano in particolare, che è stato ripulito per l'occasione e trasformato in una lettura scenica. L'attore Massimo Somaglino interpreterà alcuni dei personaggi importanti, dando loro la voce. Il mio compito è quello di fare dei raccordi narrativi, delle ricuciture e delle attualizzazioni anche, che possano aiutare il pubblico presente a capire quanto la figura di San Rocco sia una figura esemplare. Michele Pucci creerà dei paesaggi sonori che aiuteranno ancora di più ad immergerci in quelle atmosfere. Nell'ambito della rassegna Avostanis, a Villa Caccia di Lestizia è andato in scena. Ierbatis. Per Avostanis la rassegna di appuntamenti su arte e cultura è in calendario sino al 31 agosto a cura dei colonos. Associazione culturale che Filippo D'Averio, storico, critico d'arte, personaggio televisivo e gallerista amava definire centrale di resistenza culturale la centenaria omonima corte agricola di Villa Caccia di Lestizia. Proseguendo una tradizione che dal 1992 si rinnova senza soluzione di continuità, ha ospitato Ierbatis. Le Erbacce, monologo teatrale inframmezzato a canzoni di e con Stefano Montello alla chitarra, Cristina Mauro alla voce, Federico Montello alle percussioni elettroniche e Luca Moreale alla chitarra. Parliamo di una performance centrata su un genere di piante che raccontano di noi molto più di quello che noi stessi crediamo. Possiamo provare ad ignorarle, a sottovalutarle, a ridurre a brandelli, ma loro sapranno sopravvivere sedimentandosi dalla nostra testa, prendendo posto in prima fila nella nostra vita, diventando metafora. Le erbacce, le malerbe, le infestanti vengono osservate da diversi punti di vista, con curiosità, indulgenza e molta ironia, che si voglia definire le piante che nascono nel posto sbagliato, oppure piante di cui non si conoscono ancora le qualità, oppure ancora semplicemente erbe vagabonde, esse fanno parte del nostro paesaggio quotidiano, ci interrogano, ci parlano, raccontano di noi quando ci dimentichiamo di noi e di quando ci prende la paura l'erbaccia di noi stessi. Il Trentennale dei Colonos, che a giudizio dell'ex sindaco di Udine Sergio Cecotti rappresenta per il Friuli una luce e una trincea di resistenza culturale, proseguirà venerdì 13 agosto con Grazia Philippe, serata dedicata a Philippe D'Averio, un amico che è stato ospite di Avostanis dal 3 settembre 2004 ed è considerato un militante dei Colonos. L'Udinese ha presentato oggi la nuova prima maglia della squadra bianconera, dopo una sola stagione c'è il ritorno alle strisce verticali, impreziosite in questa versione 2021-2022 da un elegante gessato in stampa sublimatica, tono su tono. La maglia ha il colletto a polo nero, il back neck è personalizzato con il logo del club su fondo nero e la scritta 125 anni di passione, mentre nel retrocollo esterno è ricamata in bianco la frase La passione è la nostra forza. Sul retro della maglia spicca il quadrato nero su cui compaiono nome e numero dei calciatori, richiamando lo stile tipico delle maglie classiche degli anni 70 e 80. La sua ideazione rimane fedele al tema dell'ecosostenibilità, infatti è stata realizzata con materiali derivati dalla plastica riciclata. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento con A voi la linea. Arrivederci. Applausi. 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 Grazie a tutti.